Come ormai ben sapete, nuova stagione, nuovo pass battaglia e noi amiamo complicarci la vita, quindi ad ogni skin brutta mangeremo cibo piccante. Oggi siete voi i miei nemici. Inoltre il video di oggi è dedicato a Cristian Infernus e tutti coloro che utilizzano il codice creatore dell'alieno e prigionatino nel negozio di Fortnite. Mi raccomando, continuate a farlo! Ed ecco a voi una varietà di cose piccanti, da salse, oli, patatine, cioccolato e la bomba finale. E è arrivata l'ora di dare il video a questa nuova stagione acquatica. Peccato che in generale odio le cose acquatiche, quindi ho tanta, tanta paura! Nel primo livello due skin, andiamo a vederle. Oceania! Oddio! No! No, sorpresa, perché io stavo già per andare a prendere qualcosa di piccante, perché a me non piaceva affatto, ma cambia tutto ragazzi. C'ha stile la donna! Se tutti gli uomini si trovassero di fronte a una pescivendola, così ci sarebbe la fila fuori. Beh, devo dire che mi sono salvato in calcio d'angolo. Oceania, approvata! E mi piace anche lui. Fade! È basket streetwear figo. Quella maglia lì dove l'ha presa e che mi interessa. Ti piace? Sì! Tensione! Se appena prima volta siamo d'accordo, incredibile! Subito, gratis per tutti il nuovo ballo! Non lo so, mi lascia perplesso. Ti stavi già visto? Sì, ce n'è uno che era uguale, praticamente. Bocciato! Intanto, sto già sudando solo a sentir l'odore di sto peperoncino. Lo sai che questi qui sono quelli che quando fai la pedicure ti mangiano tutta la pelle? No, grazie. Li vedi meno bellini ora, vero? Molto! Mentre al bonus abbiamo il custom ombrello. L'ombrello che puoi personalizzare durante la stagione per avere un ombrello unico del tuo stile. È una bella idea. Sì. Posso dire, orrito! Posso dire che è una cozzaglia di roba. Sembra che sotto c'è un magnete e tutta la roba si è appiccicata lì. A livello 10 abbiamo asce della marea. Ok, due asce da utilizzare così. Oppure possono essere unite in un'unica lancia. Oh, mi piace! Oh, mi fa comunque schifo! Direi che ti mangi qualcosa. Hai già detto troppe volte che è schifo. Ma se l'ha detto skin. No, ti dico che adesso mangi qualcosa. E allora parto da una cosa dolce. La cioccolata, però è un po' rossa. Abbiamo tirato solo il peperoncino. Vorrei essere in te, guarda. Un morsettino. Tampate il naso, non lo so. Il peperoncino è stato tutto sulla lingua perché non si è attaccato alla cioccolata. No, l'hai fatto veramente. Il problema è che la cioccolata non finisce mai. Cioccolata, il peperoncino piccante. No! Bocciata. Livello 14, un delta plano. Vela maesta. Bellissimo. Ehm... A livello 20 arriva un'altra skin. Wow! Giorno si sa... Anzi, suuub! Oddio! Ma si evolve anche lui! C'è un problema. Non mi piace l'evoluzione. Un po' teneri male è così. Così mi carpi. Oddio, mamma! Ma è peperoncino puro, praticamente, tritato. Oddio, signore! Oddio, tutto il peperoncino tritato. No, vabbè, ma io non voglio morire! Dall'odore già è fortissimo. Fortissimo! Un morso e passa la paura! Non è piccante? Oddio, mamma, è arrivato dopo! Latte, latte, latte! Oddio, mamma! Oddio, mamma! Oddio! C'è la cioccolata è arrivata subito! Questo è arrivato dopo! Non mi devo toccare gli occhi con le mani! Al livello 21! Rock and roll! Devo dire che ci sta su Fortnite, è in pieno stile Fortnite, quindi approvo assolutamente il livello 21! Deltaplano, ali acquatiche! Oddio, fa le bolluccine! Non ti toccare il viso, lì! È bellissimo! Torna molto bene, mi ha insegnato mio nonno per levare l'ortica dal giardino. Ciao, ciao! Fidatevi, eh! Anche il peperoncino! Gratis per tutti! Non fare il rompi! Perché un quadrato dovrebbe essere non fare il rompi? Non fare le scadole, lui fa una scadola! 200 qui! È un deltaplano! Oddio, ma che bello! Con le farfalline! Mi dispiace, ma a me interessa di più lei! Quanto minchia è strafiga! Ha vinto tutto! Quanto è strafiga! No, c'è anche lo stile! No! Mamma mia! Ma chi sei, gnoccolona! Ecco, così me la rovinate! Sì, è un pochino... Perché è proprio il visino che fa la differenza! Ma guardate quanto è fica! Mamma mia! Voto 10! Voto 10! Cosplay di questa... Jules! Jules! Sì o no? Arriviamo almeno 10.000 like sotto questo video e la lì lo fa, eh! Ti servono un po' di tatuaggi, però! Ci possiamo lavorare! Uh! A livello 42! Leo! No! Edvige è diventata un robot! Non è morta! Edvige è meccanica! No, bellissimo! Bellissimo! Adoro! Adoro! Ma perché? Allora... Eh... Stavo... Eh... Beh... Beh... Non è bello! Non è bello! Mi dispiace! C'hai una museruola in faccia! No! Dai! Quei schifo sono anche di aglio! No! Vieni! Il peperoncino aglio ci è me! Io ho detto, ma va! Figurati le Pringles se sono piccanti! Però guarda, c'è tutto il peperoncino che si vede! Porca butta! Oddio! Ma lo senti la lingua come pizzica! Non è... Non è... Tutta! Tutta! Questa è soppos... Ma se te ne mangi dieci dopo non distingui più i gusti! Sei rovinato per un anno! Ma che stai facendo? Ah, provi a vedere se ti sei nesteditata la lingua! Mh... Almeno dopo so... No! 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 No, regà! Mi asco lo gattino! È il figlio! È il figlio! Oddio! Cioè... Mini me! Mini mi ascolo sul robot! Ragazzi! Questo è geniale! Questo è geniale! Ma quanto è dolce nella versione normale! Oddio, Rosa, così! Mi sono innamorata! Questa scia psichedelica! Invece dà un po' più di energia! A me piace! Provo, ma io penso di approvare questo ballo! Già mi si vedo io! Come mi garberà rompergli le scatole! Pim, 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 pim! Non ti piace? Vuoi per caso un po' di cioccolare anche te? Non ti piace! Però non mangio! Wow! Artigli potenti! Ragazzi, sto pass battaglia hanno mixato roba strafiga come questi! A roba un po'... WTF! Ma questo è veramente bellissimo! No, regà! No, no, no! Ci vado diretto, poi si torna indietro! È un mi piace! Che è sto cesso! No! Ancora più cesso! Io regà vado di questo! Formaggio al peperoncino! Non ne ho idea di che peperoncino sia, ma è rosso forte! Fate come me! Only the brave! Golla! Oh! Questa peperna caldana siccome... La mini luna! Molto bellina di metallo così, mi ci piace! Approvatissima! Un altro schifo se lo vuoi! Eccolo qua! No, mi piacciono sti del tablani! Ando tutti schifo! Questo potrebbe essere carino! Il ballo dei pianeti! C'è anche la musichina! E' sempre presente quando guardate qualcosa e dite... Ah, ganzo! E poi lo guardate per un'altra seconda e fate... Questo invece mi piace! La cometa cadente! La cavalco! Turutututururu! E' bellissimo! Ragazzi, se mi sentite parlare strano è normale! Non mi raccomando usare la lingua! Fantozzi è qui su Fortnite! Attenzione! Sono io! C'ho la nuvola sempre addosso! Ma questo livello è 96? Questo è il signor del tablano! Così lo dovevate fare! Bravi! Bellissimo! Ma sapete che sono delle spade! Cavaliere eterno! Ma è praticamente l'evoluzione del Cavaliere Donna! E' bellissima! Nera è veramente... La malvacità in persona! Mi piace! Bellissima! E finalmente l'evoluzione finale della skin 1 è il livello 100! Si è voluto del tutto! Ah! E' passato da avere la museruola a da avere la maschera! Con la museruola era orribile! Così? Così? Raga! Poderoso! No! Ti saluto caro odio al peperoncino! Perché queste skin mi piacciono! Ciao bello mio! Perché? Cosa vuoi? Non lo devo mangiare! Ho già sofferto abbastanza! E' impazzito ragazzi! Il peperoncino è dato di volta al cervello! Ma che senso ha che lo mangi e poi bevi subito? Ma sei normale? Va bene! Devo... Devo continuare così con te che ti tracani un litro e mezzo di te! Ok! Questo può sbattare dire che è strapromosso! Gli do almeno un 8 e mezzo 9! Sono d'accordo! Non so qual è il mio top! Sei giulz! Eh no no io mi prendo giulz! Tu ti prendi kit! Il figlio di mi asco! Assolutamente bellissime! Tutte e due! Mentre la skin più brutta non credo ci siano particolari dubbi! E lei Siona! Orripilante! No a me non è piaciuto Jonesy Sub! Versione armatura! Bleh! Però... E anche un sacco di deltaplani che devo dire non mi sono... Quelli sono i vostri top! I vostri flop! Schivedeli qua sotto nei commenti! E noi ci vediamo domani con un prossimo video! E finalmente posso dirlo! Senza peperoncino domani! Sì! Sicuramente ha vinto lui! Io non ce la faccio più! Devo andare sotto la doccia! Poi inserite il calciccatore della YPT! Lasciate un bel pollice a questo video se ne volete un altro di questo genere! Mi raccomando! A presto! Un bacione forse se ce la faccio arrivare a domani! Sei tutto appiccicoso! E' tutto appiccicoso!